Nella partita Bravado terminata 1-0 per gli ospiti, siamo con Mr Gardano a commentare una sconfitta forse inaspettata prima del fischio d'inizio, poi per una serie di fattori è arrivato questo KO che ferma un Bra che sembrava essersi rilanciato con tre risultati utili consecutivi. Sì, inaspettato anche se comunque la partita non era facile, nel senso che loro tornavano a essere al completo e quando sono stati al completo hanno sempre fatto molto bene, quindi le due vittorie che avevano fatto precedentemente le hanno fatte così, però noi un passo indietro secondo me dal punto di vista di determinazione, di attenzione e di voglia di risultato, quindi mi aspettavo di più. Ecco, voi pagate forse l'unico vero errore compiuto durante la partita, diciamo una partita non giocata a ritmi altissimi, forse la Brav, però l'errore sul gol, una diagonale non fatta, il gol segnato dal giocatore forse con più esperienza in campo tra i 22, in fin dei conti forse questo Brav in questo momento paga veramente la minima disattenzione. Eh sì sì, però gli errori sono fatti per non farli, se noi l'abbiamo fatto loro ci hanno puniti e evidentemente in altre circostanze non è successo così. Vedi la traversa di Ottonello, vedi altre due o tre situazioni, il colpo di testa dopo un minuto, quasi il salvataggio sulla linea, insomma, però non bisogna guardare queste cose qua, non bisogna cercare alibi, secondo me oggi un piccolo passo indietro. Onestamente dopo le due partite fatte precedentemente, in cuor mio mi aspettavo qualcosa in più. Ecco, poi è un Vado che ha giocato comunque la sua discreta partita, chiudendo bene Ferrario rispetto a altre volte ha visto molti meno palloni e poi diciamo anche una serie di fattori che forse vi hanno innervosito, la sua espulsione, l'espulsione di Rumadi dalla panchina. Nel complesso diventa anche difficile forse poter recuperare una partita del genere. Sì, più Rumadi, perché io sinceramente non posso fare gol e non posso salvarlo, ma la mia sinceramente ho chiesto semplicemente dove era la rimessa laterale, con un'interruzione di gioco, quindi credo è una cosa lecita. Però sì, sicuramente ci siamo un po' innervositi, abbiamo avuto qualche difficoltà, specialmente dopo il loro gol. Però, insomma, credo la sintesi sia un po' quella di prima, cioè onestamente mi aspettavo decisamente qualcosa in più. Ringraziamo Mister Gardano.